Tutto è nato dal fatto che una certa estate, fine anni 70, primi anni 80. Il padre di quegli incontri in realtà è Valerio Verra, che adesso non c'è più, che io definivo uno storico pensante con questa espressione hegeliana. In quegli anni si fece tesoro della lettura che Heidegger aveva fatto della fenomenologia e questo aveva portato ad una introduzione di Heidegger nell'ambito della cultura italiana. A fine anni 70 cominciò ad affermarsi il nostro comune interesse nei confronti di un certo pensiero proprio che era bandito nell'ambito della cultura ufficiale italiana, sia quella cattolica, sia quella laica, sia quella marxista. Quando sono cominciati gli incontri di Monteripido a noi era chiarissimo che la via Gramsciana aveva dato quello che poteva dare e non si poteva più proseguire su quella strada. C'era già una forte comprensione di quella atmosfera che dieci anni dopo avrebbe portato alla rottura del muro, al crollo del muro di Berlino. Quindi c'era una fase di vuoto. C'era questa istanza critica nei confronti di ogni riduzione dell'essere a esistenza storica ed era comune. Ancora di più comune era la critica appunto alla coine marxista storicista italiana. No, era un bel clima, era una bella faccenda. Quando volete che cominciamo sul serio ditemelo perché siamo già sul serio? Ah maledetti! Vabbè, no dai!